Salve a tutti, finalmente oggi sabato 13 cominciano le giornate fai d'autunno anche ad Agrigento. Siamo felicissimi ed entusiasti di poter cominciare queste giornate dopo tanti mesi di preparazione. Come dicevo per la prima volta siamo proprio noi, il gruppo fai giovani di Agrigento insieme alla delegazione di Agrigento ad organizzare queste giornate. L'afflusso devo dire che è stato abbastanza soddisfacente, abbiamo avuto tanti turisti, e dopo anche delle classi che inizialmente erano un po' scoraggiate e dopo invece sono venuti a farci visita. Questa è sicuramente un'occasione unica di poter riscoprire le bellezze di Agrigento, soprattutto per gli agrigentini stessi che si trovano a passare ogni giorno di fronte ad alcuni luoghi, come per esempio la Camera di Commercio, non conoscendo in realtà la storia. Per cui i ragazzi che hanno approfondito le varie storie attraverso tante ricerche storiche forniranno tantissime chicche, tantissime storie che faranno scoprire in maniera così entusiasta gli agrigentini. E voglio ricordare anche che queste giornate sono a sostegno della campagna nazionale Ricordati di salvare l'Italia, per cui siamo qui, chiediamo gentilmente di potersi iscrivere al FAI e di donare un contributo, proprio perché crediamo nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale italiano. Per cui spero che i visitatori anche domani saranno sempre di più e che possiamo raccogliere tanti fondi per poter aiutare la nostra Italia e il nostro patrimonio artistico.